Ciao a tutti ragazzi! Siamo Remy e Molly! Eeeh, beh, vengono un uovo? No, basta. Ok ragazzi, allora Molly, come vedete? È un po' fuori. Scrivetevi, dam dam dam. Basta! Allora, guarda che se richiami... No! Io prendo la carta igienica e faccio così, ok? Così non potrai parlare, fantastico, ok? Abbiamo sistemato Molly. Scrivetevi, dam 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 dam. No! Allora, fammi finire di parlare. Oggi ragazzi, se Molly lo vedete un po' così, un po' passerello, un po' così, è perché ha ordinato... No, ho bevuto. Stai zitto! Il Grimans Shake, ok? Tutte le volte Molly ce l'ha con questo nuovo milkshake del McDonald's che lo fa diventare... Basta, stai zitto! Che lo fa diventare pazzo e mi sta facendo diventare pazza pure a me ragazzi. Quindi fattesi sapere se anche voi avete bevuto questo Grimans Shake del McDonald's. Perché ha degli effetti collaterali. Quindi oggi dobbiamo creare questo Grimans Shake del McDonald's ragazzi. Fateci sapere qua sotto nei commentini se anche voi l'avete assaggiato. Ovviamente lasciate un bel mi piace e se non siete iscritti iscrivetevi. Oh, finalmente hai detto una cosa giusta, una cosa giusta hai detto tu oggi. Allora, guarda, siamo in questo gioco bellissimo dove dobbiamo proprio creare il nostro Shake personale. Quindi tocca a me iniziare. No, no. Dai, ma perché devi iniziare sempre tu? Perché sono io che provo i giochi per primo. Ma non è vero? Perché se c'è qualche cosa strana sono io che mi prendo... Comunque ragazzi, oggi che siamo così passi è perché stiamo aspettando il nostro Grimans Shake. Allora, il Grimans Shake purtroppo non c'è perché è viola. Quindi io direi di farlo. Oh, guarda. Ma no, ma devi tenere premuto. Questa è la Remy quando fa la cacca. Ma non è vero? Allora, comunque io direi che... Ma sai parlare? L'hai fatto tutto già. Ma un attimo, guarda. Allora, questo cos'è? Ecco, vedi, sono le decorazioni che ancora non abbiamo. Io direi che per ora va bene. Vabbè, ma l'hai fatto tutto già. Senti, Mio Mio Shake, Mio Colori. Guarda. Quindi? Cos'è? Non lo so. No, ma dovevo farlo così. Non l'avevo visto. Riprova. Ok, e adesso cosa succede? Vedi lassù come lo volevano. Eh, ho capito, ma è sbagliato. Che schiva, che forza. No, ma è cascato su. Vai. No, il coperchio. Dovevi metterlo di qua? Vabbè. Vabbè, va bene. Vabbè, va bene. Abbiamo già... Ma il coperchio va bene, cosa stai dicendo? Vabbè, posso giocare, per favore? No, due a testa. Ma come? Ma hai fatto... Ma non sei stato capace di farne uno? Allora, guarda. Sì. Ci stiamo avvicinando sempre di più al Grimman Shake. Perché tutti sanno la leggenda del Grimman Shake. Chi lo beve diventa un Grimman. Fatelo stare zitto, per favore. Allora, guarda, bisogna farlo. No, hai già sbagliato, devi mettersi le palline sotto. Eh, ma queste vanno in basso, guarda. Le mentos, raga. Mamma, coca e mentos. Coca e mentos, quindi un po' così. E un pochettino così. Guarda. Per meno, sì, dai. Ok. Ci sta. Ok, va bene. Ci sta. Il coperchio. Il coperchio. Ma lì, il coperchio. Ma quello è il bidone. Non è il bidone. Vedi che va a bere... Ma tu non hai il bidone. Vabbè, ok, tocca a me. Rank a più. Bravo, molto. Ragazzi. Un applauso, vediamo. No. Oh, non possiamo ancora sbloccare. Ah, ne servono 500. 100%, va vero. Quello è il bidone, guardi. Se sbagli, butti via, vedi? Non ci vuole un genio. Ok, comunque, fammi... Non ci vuole un genio. Adesso farò il frullato più buono del mondo. Uh, questo va preso. Questo è il frullato adesso. Bello, carino. Attenzione. Una chiave. C'è una chiave lì. Ok, sto sbloccando tutto. Hai visto? Hai visto che prima avevo preso le stelline, no? Sì. Non te ne sei accorto. Avete visto i miei nuovi baffi? Attenzione. Perché? Perché ho fallito? Mamma mia. Non hai un'idea. Perché era arancione, quindi dovevo mettere un po' di giallo. Ecco, così. Per fare il Grim and Shake, Rebby, bisogna essere schillati. Tu non sei schillata. Così, guarda. Vediamo. Eh? Brava. Sì, B più. B più, B più. Ci sta. Vai. Comunque, non so se te ne sei accorto, ma ci stanno già facendo mischiare i colori. E questo potrebbe essere un colore simile al Grim and Shake. Quando arriverà il Grim and Shake di color viola, allora saremo spazzati. Guarda, vai, 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 quello. Eh, ok. Gli abidù. Gli abidù, gli abidù. Ok, comunque questo colore è difficile da creare. Proviamo così. Secondo me anche un po' di rosso. Tutti i colori? Non lo so. Proviamo a mettere un po' più di blu. No, guarda, infatti, blu e zallo. Ok. Blu e zallo fanno il verde, non li sai i colori. Ma non è il ghiaccio. Eh sì, sopra lo voleva. Blu e verde. Ah, che schifo. È diventato grigio. A meno, a meno. Ma buono, buono. È il mio turno. Dai, l'ultimo. Posso fare l'ultimo? Io ne faccio 10 di fila. No, 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 no. No, star level è mio. No, è il mio turno. È il mio turno, dai, no. Allora, star level. No, ma si muove, guarda, il barattolo. Attenzione, così. Fermo, fermo, fermo. Lì, lì, lì. L'ho visto, attenzione. Eh, ma è andato via. Ma no. Ma no, è andato via. Allora, fammi riprovare. No, no, è il mio turno. No, dai. È il mio turno. Ma ho sbagliato, non avevo capito. Oh, mi dispiace, vuoi andare a piacere dalla mamma. Gli, 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 gli. Allora, quindi rosso, poi vediamo giallo. Non mi hai messo poco, eh, di giallo, però. Quindi, shake, 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 a meno. A meno, bravo. Amazing. Amazing. Possiamo sbloccare, Remy? Guarda, possiamo sbloccare qualcosa. Guarda, il nuovo coperchio. Random. Ti prego, quello del Grieman. Il Grieman Shake. Bello. È quello del Grieman. È quello del Grieman. Ragazzi, è quello del Grieman. No, vabbè. Ma mamma. Adesso? Blu. Ok. Poi ci sono le mentos nere, cacca. Questo è bello, però. Questo è difficile, eh. E attenzione, è sopra quello. E questo che è? Giallo. Prendiamo questo. Un po' di giallino. No, devi mettere quello con le bolle. Ragazzi, sta diventando sempre di più. Sì. Ma come? Eh, sei fallito. Non ho messo abbastanza giallo. Non hai messo abbastanza nero. Vabbè, riprovo. No, come riprovo? Tocca a me. Allora, così. Basta, l'hai già fatto troppo. Ma stai tranquilla, ragazza. Ok. Cosa c'era? Questo, forse. Quello c'era. Ah, era questo. Fatto, vediamo. Vediamo. Dai, va bene. Sì, sì. A più. Mamma mia. Top. Sta diventando sempre di più il Green Man Shake. Non che a me. Toccava a me comunque nei casi tre prima. No, no, nei casi due. No, non è vero. Eh, vabbè. Non è vero. Comunque ho 7,50 per il prossimo. Allora, questo è difficile. Questo è difficile. Servono un po' di palline nere. Serve questo. Quello, quello, quello. Un attimo, non mi mette ne ansia. Poi serve questo. Io ti aiuto. Perché tu sei in difficoltà. E questo, secondo me, a più. Secondo me non va bene. S. Unbelievable. Sì, vabbè. Super. Wow, super. Eh beh, questo era bello. New outfit a breve. Attenzione. Un sacco di palline nere. Dai, voglio fare il Green Man. Servono tante palline nere. Io voglio sapere qua sotto nei commentini, ragazzi, se voi l'avete mai assaggiato queste Green Man Shake. Ok, secondo me è buono. Ci siamo. Vai. Vediamo. Perché fate? Ma perché? Non hai messo abbastanza palline nere. Ah, non hai messo abbastanza palline nere. Mi dispiace questo shake, fa schifo, tocca a me. Ma non è vero, non fa schifo. Comunque guarda, è carino. Io ci metterei un po' più di giallo. Un po' di giallo. Un po' di più. Molte più di quelle. E poi tante palline nere. Non so che li mettiamo così. Quello, quello, c'è quello. Quello lo prendiamo. Vai, vediamo. Un altro. Un altro lo prendiamo. Vai. E vediamo un po'. Secondo me hai fatto bene. Forse sono quasi troppe. Eh, sono troppe. Ma perché? Sono troppe. Ma dai, ma le dobbiamo contare queste palline? Si, penso io. Ma cosa? Sto sbagliando. Secondo me sono, quante file, un po' di più. Così. Ma svegliamo il fenomeno. Così è perfetto. Io sono a genius. S. Ma come hai fatto? Perché sono un grande. Ma io le ho messe uguali. Ma me, me, me. No, vabbè, ma non ci posso credere. Questa è fortuna, ragazzi. Star level, finalmente. Sarà il Grimanshake. Attenzione. Ok, queste. Ma cosa c'è laggiù? Che colore è? I quadratini. Ciao, molly. Ma un attimo. Ciao. Un attimo, non capisco. Ah, ci sono anche i cubetti. No, ah. Te l'ho detto, vedi? Eh, questo è il livello star. Non sapevo, pensavo tornarsi indietro. E adesso? Adesso, no, non ce lo fa più fare. Eh, vabbè. Ma questo è tutto giallo? Tutto giallo. Sarà un po' blu. No. Un po' giallo, un po' blu. Ma non c'era il blu. Ci hanno messo... Ah. Sì, ah, ah, perché ci hai messo un po' di blu. Vabbè. Tocca a me comunque ne hai fatti due. No, no, ne ho fatti... Ne hai fatti due. Tre, ne hai fatti tre. Grim and Shake. Guardate, allora, comunque dopo ne faccio quattro. Blah, 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 blah. Dopo ne faccio quattro. Guarda, ti lascio prendere il nuovo Shake. Dopo ne faccio quattro. Super. Sì. Ma che quattro? Eh, dopo ne faccio quattro perché te ne hai fatti... Uh, non possiamo giocare. Vai, vuoi prendere il nuovo coso? Vediamo. Attenzione, ragazzi. Vediamo, ragazzi. Bello. Bello, però quello che avevamo prima mi piaceva di più. Eh, ma perché quello di prima era proprio il Grim and Shake. Quello era il Grim and Shake. Attenzione. Tadam. Vabbè, tutto rosso. Secondo me è un po' di blu. Ci stava. S, vabbè. Facile. Unbelievable. Attenzione, quanti ne abbiamo fatti? Ragazzi, non sta venendo fuori il Grim and. Ma adesso è facilissimo, cioè così e basta le vogliono. Eh, ma perché hanno capito che stai giocando te e ti facilitano. Eh, comunque di questi ne faccio di più perché questi... No, 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 no. Eh, ma non c'è niente da fare. Eh, non mi importa. Ma non c'è niente da fare. Guarda, sono tutti... Star level, mi raccomando, ti aiuto, eh. Fermo tutto... Tutto blu, vabbè, dai. Ma dai, ma che cosa... No, centralo. Eh, lo centralo. Vai, vai, va bene. Perfetto. Un altro po'. Vai, 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 vai. Star level. Vediamo? Perfetto. S, brava. Ma non c'è da fare niente. Un altro? Ma allora, iniziamo a mettere questo. Eh, ma vedi che adesso è più difficile. Cubetti di ghiaccio. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Basta. Troppi, Reppy. No, no, sono perfetti, guarda. Sono troppi. Rank S, unbelievable. A caso, però. Sì, ma stai giocando... Oh, io dopo gioco tutte le volte che stai giocando. Ma non c'è da fare niente, guarda. Eh, ho capito, ma... È già finito, guarda. Ma infatti stai andando alla... Oh! Get it! Ok, perfetto. Tocca me, dai. Eh, ma questo, vedi, è stato perché... Siamo stati bravissimi a fare il star level. Ah, vediamo qua. Possiamo sbloccare... Mille a breve. Manca pochissimo. Manca veramente... Sì, ma sono tutti uguali adesso. Eh, ma te l'ho detto. Non so perché ha cambiato il livello. Perché il Grimm and Shake ha meno. Ha meno. Non si sa perché ha meno, però... Ma gli ha messo poco. Gli ha messo poco, secondo me. Gli ha messo poco, ha messo poco. Ok. Ok. Adesso si fa più complicata. Io direi di sbloccarlo un altro. Oh! Bello! Ma questo sarebbe il milkshake di Max, ragazzi. È un gattino. Ok, blu. Rosso. Poi ci mettiamo queste. Ok. Io direi che è perfetto, che bello! Anche S. Perché? Sì. Perché? Troppe ne ho messe. Ah, dovevi... Vedi che è viola, non è blu. No. Devi mischiare... È il Grimman, è il Grimman! Uh, attenzione. È il Grimman, Reby. Mischiare il rosso? Reby è il Grimman, perché il Grimman è di questo colore. Vai. Oh, ma... No! No, 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 no. Vedi che è maledetto? Ok. Di rosso. Di rosso. Un po' di quello. Mischiamo? Mischiamo? Sovata? Potrebbe esserci, eh? Sì. Ragazzi, vedete? Il Grimman non si riesce a fare. Eh, ma mancava un po' di blu. Posso provare? Dai, fammi provare a fare il Grimman. È il Grimman shake questo! Allora, io metterei questo. Metterei questo così. E le palline? E le palline rosse. Eh, ma esce il rosso dopo. No, non esce il rosso. Troppo rosso! Vai, prova. Mettiamo un altro po' di blu. Basta, basta! Un po' di rosso. Un altro! Un po' di questo. Basta! Ok, prova. Proviamo. Provala. Secondo me è perfetto. È il Grimman. È il Grimman! Ragazzi, è il Grimman! È il Grimman di Max, ragazzi. La Rambi ha dato il Grimman grande! E adesso chissà chi se lo verrà, quel Grimman. Io non assicuro. Ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo. Al prossimo video! Ciao! Ciao!